Io quasi credo che il tentativo di osteggiare la prospettiva federalista riaffiora sempre. Io sono fermamente convinto che i guai del Paese, la voragine del debito pubblico naturalmente, che viene scaricata da tutta una saggistica analistica, giornalistica, se così vogliamo definirla compiacente sui ritardi e sugli sprechi del Sud, si deve ai guasti e agli sperperi del centralismo e della macchina centrale romana, se si avesse il coraggio, ma credo che non ce l'abbiano neppure taluni ministri leghisti con tutto il rispetto, di andare a guardare quante società, sottosocietà che fanno controlli, che organizzano le cose, che ottengono servizi dalle agenzie nazionali, che poi sono partecipati dai privati, che incassano milioni e milioni di Euro, sottraendoli al bilancio dello Stato e allo sviluppo, ci si rende conto di come così questo Paese non può salvarsi, ecco perché io guardo con simpatia al federalismo, perché il federalismo una volta per tutte fa chiarezza su questo, decentra i poteri e smantella l'apparato centralistico romano, riuscirà questo disegno? Io mi dubbi, l'ho sempre detto, in mille tentativi si faranno per farlo saltare, nella buona sostanza anche la resistenza alla manovra finanziaria e la messa in difficoltà di Tremonti, il tentativo di licenziarlo nuovamente, di allontanarlo dal governo, fanno parte di questo progetto e fanno parte di questo disegno, credo che la Lega se ne sia accorta e stia reagendo contro qualunque forma di nuovo governo.